Los Angeles che implode, The Rock e Dennis Quaid che scappano fuori ovunque, un presidente che dice in tv Che Dio ci protegga Parliamo ovviamente di una top 10 disaster movie più spaventosi Benvenuti quindi su Watchmoji Italia e oggi daremo un'occhiata ai Disastro films non migliori, migliori di che cioè Disaster movie per definizione deve essere una cafonata delirante ma spaventosi, quello per davvero Però per questa top sono esclusi disastri causati direttamente dall'uomo diciamo anche tratti da eventi reali Alla numero 10 Dante's Peak Vulcano Los Angeles 1997 Dante's Peak e si torna a correre a 2 all'ora per evitare collate laviche che vanno ancora più lente di a 2 all'ora Ma inspiegabilmente mietono vittime come non mai La logica in particolare dietro Dante se è scricchiolante a dir poco anche sul lato scientifico Come per esempio il lago no che diventa acido il 3 secondi e quindi il classico eroe americano Che si getta per salvare i nostri che la tipica coppiettina di nonlini immancabili in tutti questi film col cagnolino E l'acqua si tinge a stelle strisce col inno cantato Gli evo ammetto che pur essendo follia pura Quel momento e l'esplosione del vulcano incutono a discreto timore E alla numero 9 San Andreas Un terremoto, la faglia che si apre a voragine ed è troppo tardi per avvisare il bravo cittadino americano Eh sì, parebbe proprio un disaster di quarta categoria come gli altri e lo è in effetti Ma stavolta c'è The Rock in mezzo e allora cambia l'equazione In uno slancio di cafonaggine sconosciuto a memoria umana The Rock salva mezzo mondo, picchia un terremoto, sconfigge uno tsunami cavalcandolo con un motoscafo Fuga da Los Angeles chi? Delirio puro ma tuttavia è innegabile che un'ottima CGI Almeno quella renda certe scene davvero d'ansia totale Impossibile ovviamente non citare anche qui la coppia di nonnini che danno una mano all'eroe Per poi morire miseramente che gli hanno fatto i vecchi a Hollywood Ve lo spiegate Ancora? Questi sono altri due? Cioè, è incredibile E alla numero 8, 2012 Ed eccolo il discorso del presidente che tra l'altro poi qualche minuto dopo non so se ricordate Si becca una porta aerei sul naso Una porta aerei su... questo film è la perfezione Se oggi i palazzi crollano fico e la metro immancabilmente esce dalla terra quando questa si spezza Ringraziate 2012 e le sue follie Con John Cusack in formissima Che esibisce le sue migliori espressioni incredule una dopo l'altra E un doppiaggio in italiano formidabile Con un tono di voce Perennemente così Entrate nella caccia di Buck È incredibile E Woody Harrelson Che urla Fatti sotto! Mentre il super vulcano gli esplode davanti alla faccia Fatti sotto a un super vulcano Si capisce che siamo davanti a un film epocale Il mondo finisce tra lo spettacolare e il terrificante Perché pur essendo un'esagerazione mai vista La scena della corsa in limo per Los Angeles È ad oggi una delle sequenze più da brividi in tutti i sensi che ho avuto il piacere di vedere E alla numero 7 Deep Impact Perché al cinema la terra sarà stata incrociata da un sasso dal profondo dello spazio Numero di volte pari ai film di Michael Bay in cui esplode qualcosa Quindi bello grosso E sarebbe potuto dunque starci anche Armageddon Ma oltre al fatto che il film del miserabile dovrebbe essere cancellato dalla memoria del genere umano Personalmente non fa paura per niente Armageddon Al massimo fa vomitare per quanto si muova da ubriachi la cinepresa Ecco Deep Impact Con le sue facce drammatiche I discorsi toccanti del presidente alla nazione Le scene videoclippatissime con la bandiera americana Anche qui che sventla se lo sfondo mentre qualcuno si bacia È uguale Ma almeno è una cosa che mi fa ancora venire gli incubi ad oggi Questa scena E alla numero 6 The Core Allora questo è un buon filmetto invece Quanto meno con un twist un po' sci-fi che ci sta benone Chiaramente per accettare le premesse bisogna anche accettarsi la scatola cranica E tirarsi fuori il cervello è l'unica La terra ha smesso di girare e già e per farla ripartire Testuali parole ripartire manco fosse un pandino col motore scassato che piglia calci I nostri gli vanno dentro a buttare una bomba atomica nel nucleo Ora non c'è bisogno che vi spieghi che cosa ci sia di sbagliato in ciò che ho appena detto Tuttavia la missione ha i suoi momenti di dramma anche E per gente claustrofobia portami via come me Il viaggio verso il centro della terra in quel rottame con tutti Anzimanti disperati per 90 minuti Oddio Può portare a stati di disagio elevati ve lo dico E alla numero 5 L'avventura del Poseidon Avventura Insomma Un film dal quale poi è sorto l'immondo remake con Kurt Russell Povero kart film sbagliato quella volta Bisogna dargli onore perché per essere dei primi del 70 Era fatto molto bene Già la scena dell'impatto è notevole Per quanto non si veda granché Le sequenze interne al Poseidon con tutti i tizi Classico, no? Nella sala da ballo E l'eroe intrappolato tra questi flutti Che imperversano per ogni corridoio della nave L'austrofobia in decor E qui anche peggio Considerando che se ci metti pure il terrore Della plausibilità dell'evento Tra tutti Devo dire forse il migliore qualitativamente Proprio come film Perché è onesto Con i suoi mezzi Realistico E fa tanta paura Titanic Considerate attratto molto da questa pellicola E alla numero 4 The Day After Tomorrow È atroce Ma c'è Jake E i film con Jake a giro Ogni tanto vanno rivisti tutti Dal primo all'ultimo Anche Prince of Persia Che ci posso fare? Tuttavia Direte giustamente voi Ma che stai a guardare la trama In The Day After Tomorrow? Catastrofe climatica E l'emisfero boreale Si surgela Gli effetti di suddetto surgelamento Sono notevoli La scena nell'occhio del ciclone Con i soldati Che diventano dei calippi viventi In un secondo È fantastica La statua della libertà Con tutto lo tsunami Mam Su New York È veramente fico Guardate Vi concedo che Se non ci fossero state le scene Con i loop Di CGI Mamma mia E il freddo Che pare senziente E decide di fermarsi Proprio davanti alla porta Dei nostri eroi Gli avrei dato un 6 Meritatissimo E invece è soltanto Un 10 storico Perché fa tremare In tutti i sensi Capite? Tremare No ok E perché ci sta anche Danny Quaid Sapete che quando lo vedete In un film Spesso sta per finire Il mondo E la cosa si riconfirma Anche in questo caso E mi ha sempre fatto fuori Dalle risate E alla numero 3 Gli uccelli E adesso non mi fate Però i troppo puntigliosi Solo perché Los Angeles O New York Non vengono rase al suolo E o Una coppiettina di vecchietti Non fa una fine drammatica Non significa Che non possa essere Considerato Disaster movie Uccelli È Più sul versante Thriller o razzo Ma il crescendo Di morte Distruzione Portato da questi Canarini E gabbiani Infuriati È notevole E poi oh Ci sono le esplosioni Anche qui Michael Bay Scansati Fece al freddone Ancor prima Che Michael Bay Esistesse Questo film È a tutti gli effetti Un disaster Di livello superbo Tra l'altro Un classico La sequenza finale Fa morire Dalla paura E la chiusura Su questo silenzioso Stormo inquietante Rimarrà nei vostri ricordi Ben più a lungo Di un The Rock Che picchia gli tsunami Ve lo dico Alla numero due The Wave Trattino l'onda Come sottotitolato In italiano Grazie Non ci arrivavamo È un film norvegese Come? Beh sì Dai Diamo un pochino di spazio Anche a chi Non ha Un budget alle sue spalle Della grandezza Degli tsunami Che poi vengono scagliati Su Los Angeles Con suddetto budget Anche perché È una buona pellicola Prende in prestito Qualunque cliché Che ci sia nel mondo Di questi film Ma quantomeno Essendo una storia Dai ritmi norvegesi E ragazzi Non ci si sbaglia I loro film sono lentissimi Anche in un disaster È così Lo tsunami tra i fiordi Ci mette 70 anni Ad arrivare Perché pure lui È norvegese Ma almeno Ci si affeziona Un minimo ai personaggi E quindi fa ancora più paura Quando stretti Tra i dirupi Arriva falciando Tutti quanti Ve lo consiglio E per concludere Alla numero uno Twist The Barn Come on Beh beh È immancabile Intramontabile L'unico film Della storia Che si è potuto permettere Di far volare mucche In CGI Orrenda In primo piano Ed essere apprezzato Per questo Tornado Che chiaramente Devasta Agli Stati Uniti Con i nostri quattro deficienti Che lo inseguono Come se fosse divertente farlo Nel mentre c'è anche Tutta quanta la storia Del matrimonio Ma chi se ne frega A noi interessa Quando il drive-in Si stacca dal suolo O c'è il tornado nero Sulla fattoria Diavolo Fa venire le palpitazioni Soltanto riguardarlo così Azione Follia Terrore A livello puro Basilare Per forse Il miglior Disaster movie Di tutti i tempi C'è un tornado E tu gli vai dentro Chiaro Allora Piaciuta questa lista? Siete d'accordo Anche voi Con questi film Che spero Abbiate visto Tutti quanti Fate i compiti A casa Questi sono proprio L'ABC del cinema Avreste per caso Invertito l'ordine Avreste tolto qualcosa Aggiunto qualcos'altro Fatemi sapere qua sotto Nei commenti Dibattiamone E ci vediamo domani Anche per un'altra Top 10 Siete d'accordo Ma in